Chi farese salire come sindaco della città di Lecce? Per me è incerta la cosa, gli indecisi contano. E secondo voi cosa dovrebbe fare il sindaco per rafforzare la città di Lecce? Non fanno niente, solo li fatti loro se fanno, sono bravi che fanno li fatti loro, sono bravissimi. Vedi pure la Lega, ce l'ha duro, ce l'ha duro, Roma ladrona, sono tutti i primi ladroni, tutti sono gli stessi. Non c'è la pianosa e la sinara che è libera, per i politici li mandiamo tutti lì sopra a pascolare le pecore. Che penso del sindaco? Chi farese salire? Nessuno. Dovrebbe fare piazza pulita di tutte quelle persone che l'hanno consigliato male, non lo so, o si sono comportate male. Non lo merita nessuno? No, ma io sono un altro parere, l'elettore va in crisi pure, quindi ha bisogno di un po' di pausa per meditare, per pensarci. E poi quando arriva il momento di votare magari ci ripenseremo.